Ci sono tecnologie che lavorano sulle energie rinnovabili, ci sono imprese che hanno bisogno di contenuti, quindi l'idea di connettere a Rimini, in una zona post-industriale, l'ex macello, l'università, la ricerca e la trasformazione della città. Non possiamo più essere la ruota di scorta dell'innovazione dell'Emilia Romagna, no? Noi abbiamo il grande ombrellone, il turismo, in fondo cosa serve a noi la ricerca, l'innovazione dei prodotti? Beh, oggi è decisiva e a Rimini abbiamo strutturato un luogo dove le imprese, il territorio possono ritrovarsi per creare nuovo lavoro e nuove imprese.